rieccoci con la seconda parte di questo di questa serie ecco appena piantato gli agli li ho piantati in dei vasi di terracotta in dei secchi diciamo di plastica ovviamente preferisco la terracotta alla plastica però questo è quello che ho diciamo bene mi raccomando l'unica cosa fare attenzione quando si piantano alle radici ok soprattutto se hanno delle radici lunghe fare attenzione quando si inseriscono nel terreno perché le radici potrebbero rompersi e una volta rotte quella parte non cresce più o comunque fa fatica comunque me ne sono si rompono diciamo è nulla diciamo potete piantarle io le ho piantate più o meno 5 centimetri sul terreno calcolate non so magari la lunghezza di di un dito del dito medio per dire e questo è quanto adesso ne metterò un paio un garage e un paio dentro cioè in cantina in una stanza chiuso come cantina diciamo e nulla quindi questo appunto si possono coprire e l'unica cosa è di bagnarle molto almeno un primo periodo perché come avete visto prima erano nel video numero uno nel primo video erano completamente nell'acqua soprattutto le radici e così crescono per cui calcolate che anche quando sono in terra sono nella terra quindi quando sono piantate hanno bisogno comunque d'acqua quindi non avete non abbiate paura e dateli l'acqua ecco bene perfetto rifare un altro video tra una settimana due tre vediamo adesso come come crescono calcolando anche la temperatura che c'è quindi ci vedremo alla prossima prossimo video ciao